bene eccoci per luisa ciao elena ciao la di capelli elena oggi 5 4 3 2 1 e iniziamo si appare in una scena un po particolare c'è lei e lei e ha una specie di come se fosse una corona ok quindi un cerchio con delle dei buchi dei fori circolari ok da questi fuori circolari partono tipo delle spirali fatte di monete d'oro che è in cima ogni moneta ad ogni spirale c'è la figura di zeus direi che si replica per ogni spirale di soldi di monete quanti spirali sono 12 e questa è una corona se vabbè ti dà l'autorizzazione luisa se ce l'ha da cercando di togliersi la corona e non riesce continuanti verso e poi torna giù va bene ci sono tante cose da vedere ci sono tante questioni che non si capiscono vediamo subito banalmente la vibrazione di luisa 2,3 miliardi quant'era la vibrazione di luisa quando lavorava nel vecchio posto di lavoro in un momento qualunque non quando è soltato fuori poi il bordello momento medio 13 miliardi consapevolezza 141 psp 37 63 vite precedenti 1923 cervello 9.1 ok prima di tutte le entità chiamiamo gesù allora il gesù di luisa perché ci saranno tutti già che vuoi esatto allora c'è la figura è come se fosse un pannello di anche la figura di gesù bene lo ripeti scrive se bloccato un attimo arriva alla figura sulle plastiche se è un pannello di plastica ha ricoperto da dalla figura dall'immagine di gesù ok questo pannello di plastica è attaccato a un manico telescopico che potrebbe essere anche quello di plastica il bastoncino di self esatto una cosa così si lungo 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 che arriva fino al secondo universo fino al limite tra prima e secondo universo e dietro che lo tiene in mano c'è questa questa figura ha un po delle sembianze umanoidi però un po tipo deforme nel senso c'è il naso molto pronunciato quasi su molto sottile la faccia molto scarnata ok il colore un grigio verde ed è ricoperto da da una veste nera come si chiama ma mi dice tana tas ok fagli dire adesso con la sua voce gesù ti ama e tu ascolta la voce di lui sitta nato viene fuori una roba robotica 6 quando cercano di quando coprono quando mettono con la funzione nelle comunicazioni telefoniche per coprire la voce ecco fuori così e me lo dice in un'altra lingua poi vagamente riprodurre sia quello che ti ha detto sia il timbro timbro cipro ca tra san nari carolli con una voce metallica robotica tipo quando c'è il distorsore per non farsi riconoscere perché la telefonata anonima dei dei di quelli che chiedono riscatto si è presente quello scienziato che non poteva parlare ecco così ok esatto così che morto no sì ok questa luisa è la voce di gesù del secondo universo chiamiamoli tutti gesù alle tutti voglio sapere semplicemente cosa vedi quanti sono più o meno centinaia decine e posso dire ti che non c'è un numero nel senso che è come se a seconda della cena uno per ogni persona che crede in gesù ecco ok bene se percentualmente quanti vengono dal secondo quanti dal primo allora io ti direi un 20 per cento dal primo l'80 per cento dal secondo ha quindi un proprio un secondo universo se il gesù canalizzato da saiba babbo si è formata una fotografia come lo vedi tu conosci quella fa con l'immagine no intanto la faccio vedere in cam che questa qui tu non la vedi ma questa che sto facendo vedere è la foto di gesù canalizzata da saiba babbo questo è del secondo del primo secondo ed è addirittura allora la foto canalizzata è collegata a un interferenza del primo collegata al al secondo universo vabbè si trova le scamotage per passare dalla acqua se ora dalla registrazione parlavo a luisa di cos'è il secondo universo nel primo universo ci sono degli esseri diciamo soltanto anche soltanto focalizziamoci su quelli viventi fisici l'uomo respira il serpente respira che pesce a suo modo respira l'uomo si idrata il serpente volendosi idrata assumendo acqua attraverso la rugiada la sera che ne so il pesce si idrata con l'acqua la non ci sono queste regole non c'è questo ci si deve nutrire idratare e dormire si deve vivere e morire la ci sono l'acqua c'è il tempo la buf una volta che era tipo si ricordavamo visto una volta nel movimento che era diverso proprio si sport c'è con pensere di spostare le molecole ti ricordiamo adesso se riguarda quella parte di si vede ancora non pesanti nel secondo universo sono tipo potrei simili a una gelatina ma sono fisici non si può dare una risposta no non abbiamo non riesco perché non è pari colpa secondo me non è paragonabile a nulla che noi conosciamo dovrebbe anche essere un mondo delle idee qui super metafisica se cana tos che fa aspetta cosa il 25 dicembre aspetta di vedere che cosa vogliamo fare tra l'altro l'immagine di gesù di sei baba impazzita nel telefono ha fatto una roba che non vi spiego che non ho mai visto fare nessuno perché quella è la causa esoterica si è allora avvento che è come se perde la sua della sua consistenza perché abbiamo palesato che cos'è e nello stesso c'è nello stesso tempo cerca di con la stessa energia di ricreare la sua consistenza quindi quello che vedo è quasi come se perdesse la consistenza e poi cercasse di ritrovarla adama io non mi ricordavo tu tu sai chi era tanatos o ti è arrivato così non mi allora ho già sentito ma non mi ricordo assolutamente chi sia c'è solo significazione maschile della morte presso gli antichi greci manco se l'avessimo preparata veniva così bene no e non l'abbiamo preparato ricordato già in omero come fratello di ipno il sonno chiamalo ipno vediamo se c'è compare in esiodo come dio crudele figlio della notte abitante nel mondo sotterraneo dal quale viene a sorprendere i mortali ha effetto lui nel alcesti di euripide tanatos è il tetro sacerdote sacrificante dell'ade che combatte con eracle è venuto a prendere a riprendere alcesti fratello hai detto è arrivato praticamente la stessa figura però più su un grigio come se fosse la stessa tinta di ciasso colore ma più chiaro su grigio la differenza che posso vedere come se fosse che ne so quello che è fatta anatos lavorare in maniera brusca nel senso abbassa le vibrazioni un po alla volta ma di colpo e pro invece lo fa in maniera graduale bene unità di luisa eteriche il primo del secondo diverso questo tanatos poi c'era zeus e c'è e te zeus lo vedo collaborare con questo leonide però sei più che la forma di una sfinge maschile che però mi dice maschile uno sfingio uno sfingio nel senso che è maschio ma le sembianze di una sfinge ok e qua c'è un falconiforme grosso che se lo avete il grosso ma ma e qui ci sono due uomini del tempo che dietro però c'è camuffano due militari scommetto che sono legate le questioni tribunali infatti stavo per dire cioè uno quello dei debiti del merito esatto di tribunali adesso mentali allora un'entità mentale di livello 3 un'entità mentale di livello 6 però quella di livello 3 diciamo che è l'entità mentale che fa sì che lei venga riportata sempre all'aspetto negativo deprimente direi di tristezza delle cose e delle vicissitudini della sua vita quindi viene tutto trasformato in negativo e triste pesante faticoso l'entità mentale di livello 6 invece quella che fa sì che lei si senta sempre chiusa in una gabbia quindi compressa fa tutto direi con un la vedo che cerca di muoversi sempre nelle situazioni con una certa frenesia ecco che frenesia data da dall'ansia di arrivare fuori alle cose dalle cose c'è questa è la 6 sì a un interico io la vedo proprio con il torace chiuso dentro una gabbia dentro a una rete di acciaio diciamo che la tristezza la 6 e frenesia sì altre edl allora ce ne sono tre non all'interno e due fuori c'è un cosa chiediamo come vediamo cosa fanno chiedendoli consideriamo più edl ma perché non sono secondari ma di solito sono i fattori dell'entità mentali ma non è neanche detto che siano solo quello ma così allora quello che all'interno in realtà io lo vedo come aggancio perno di collegamento eterico con l'essere del secondo di contana tos ok quindi c'è quel braccio di plastica c'è la foto di gesù e a livello eterico c'è una come se ci fosse una corda eterica energetica collegata alle dl che lei ha dentro poi e poi ci sono gli altri due che invece sono proprio dei fattori mi sono uno parte da un entità mentale altro dall'altra e li vedo collegati al a zeus e leonide e poi al allora uno è solo per zeus e leonide e l'altro è a seconda della situazione legato sia agli uomini del tempo che al falconiforme è come se allora principalmente li vedo lavorare in collaborazione con uomini del tempo i militari e è come se ogni tanto ci fosse da raddrezzare il tiro tra virgolette quindi c'è necessità dell'influenza del falconiforme quindi che dl prende comando dal falconiforme e agisce su luisa progetto di luisa la macchina energetica allora è quasi come se nella matrix tutto ciò che è soldo tutto ciò che scambio economico riguardante a luisa corrisponde a il carico energetico che loro che l'entità si prendono in eterico e più dura nel tempo e più esponenziale a livello energetico c'è quasi come se ne fosse una slot machine di energia caricata però tagli resta nei casi economici non l'entità di casino economico deve essere un casino economico l'entità del casino economico aumenta la quantità o la qualità dell'energia che lei dà no è proprio questione di quantità quindi è proprio relazionato nella matrix hanno trovato hanno incastrato luisa in questa maniera tutto ciò che economia nella vita di luisa corrisponde a un rilascio energetico in eterico ma è a livello esponenziale quindi è come se ci fosse tra virgolette una tariffa base mantenuta nel tempo e più va in là e più a livello energetico loro prendono energia anche se a livello economico può sembrare sempre uguale cioè come basta che ci sia un incastro di una certa entità a livello economico nella matrix e loro a livello energetico possono prendere quello che vogliono ecco no più o meno una cosa così cioè quell'immagine che mi ha fatto vedere all'inizio è proprio quella a livello economico nella matrix fa sì che lei sia completamente assorbita a livello energetico quindi le due cose vanno in parallelo nome della piessa graticola della pie fulminato la fiamma esiste c'è la possibilità di grezze ma in stand by se il marito vita precedente se c'è però tra 1923 possibile che ci sia in cui vita che è la più esemplificativa che spiega qualcosa di il marito ex marito di oggi no è perché allora è come se avesse la sua ps avesse scelto tra le ps che sarebbero venute in questa vita insieme a lei ok una certa quantità di ps tra cui scegliere e una ps del marito con le caratteristiche ideali per farle fare quel percorso di a livello economico però in questa vita lo vedo come scelta della ps prima di nascere non lo vedo legato un'altra vita con lui hanno vissuto altre vite con ci hanno vissuto altre vite assieme ma questa cosa di questa vita è stata scelta tra varie ps da entrambi stessa domanda per quella persona che prende se le chiamano il cinema con cui c'è una particolare affinità un ex è stato un ex se c'è un un collegamento proprio voluto da lui nel senso lei ha consentito a lasciarsi a far sì che lui rimanesse è legato a lei lei ha una caratteristica che da cui lui non riesce a staccarsi a livello eterico la sua come posso chiamarla te la descrivono mi viene il termine adesso c'è vedo luisa che va dritta come un caterpillar è capace anche di rompere tutto ciò che c'è davanti senza fermarsi fino a dove deve arrivare perché sennò se si ferma ha paura di non farcela ad arrivare là ecco e lui si è agganciato a questa sua caratteristica non consciamente a livello eterico dopo un legame una breccia da cui lui prende prende questa sua energia di questo tipo chiamiamolo nel cinema insomma tutti quelli che ha chiesto la sua amica che qua presenti tutti quelli che ha chiesto prima vengono tutti si davanti ci sono i figli e le due amiche questa persona qua è in terza fila e dietro ci sono gli altri po meno curiositi però proprio abbastanza neutri nel senso quasi come proprio se andasse a vedere un film qualunque ecco mentre questa persona qua è proprio c'era ma questo tarlo no arrivato molto incuriosito perché vuole capire come lei fa a fare questa cosa che non riesce a fare va bene portale aure aureo tutti i parenti di tutte le generazioni di luisa sono chiamati all'appello e in particolare fratello sorella e padre mentre arrivano tutti io ti faccio questa domanda ma esiste un filo conduttore tra le varie sfortune degli elementi di questa famiglia specialmente i figli luisa adesso li riveli vediamo tutto quello che fratello e sorella relativamente giovani non ci sono già più malattia e incidente mi ricordo incidente ha fatto ha fatto problemi fisici quindi ma sono tutti legati a questa at anato sai la morte bene ma luise viva sì sì ma questa energia qua è come se aspetta fai vedere perché c'è qualcosa legato a l'ha avuto qualche generazione fa una parente che era suora può essere generazioni cioè di tutto e mi apparsa questa suora è come se allora mi apparsa questa suora potrebbe essere fine ottocento ok che una generazione passata della famiglia di luisa ok che a un certo punto ha iniziato a fare delle ritualità di magia nera tra virgolette nel senso quella che chiamano magia nera ok ma in eterico è come se avesse fatto un patto con tanatos se questa sua con questa energia si dov'è questa sua ora adesso da fanatos questa sua ora è paga si vaga e legata ancora tanatos si c'è e vedo che è come se fosse in uno spazio dove ci sono tutte queste persone che hanno ricevuto questa interferenza e da cui partono tutte questi legami o un disincarnato legato a tanatos andare nel secondo universo no peccato se non ce la mandavo no 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 ci vuole tanto andare ci vadano aiutiamo la la sua ora ad andarsene da tanatos ci vuole tanto andare vada fin dove può arrivare fino al confine è lì adesso se li diciamo di andare data quando è detto di andare adatta nato si è avvicinata si è spiaccicata al confine e spinge contro il confine dall'altra parte c'è tana tosti qua c'è lei continua a spingere ma può andare di là bene ribaltiamo la situazione luisa è molto sconvolta molto adesso realizzeremo diciamo i suoi fatti ma però se vogliamo lei tra i tre fratelli è quella che ha trovato l'inghippo esatto è quella che ha trovato chi ha scoperto il vaso di pandora se è quella che ha fatto tutto il suo percorso non ha conosciuto la sua amica non le ha dato della matta le ha dato retta ha fatto tutto il percorso inventando perché non lo conosco ma lo ipotizzo quindi se vogliamo siccome tutto questo è un gioco la vita deve essere bella chi l'ha detto infatti la vita deve essere bella ma è bella soprattutto quando tu capisci e lo scopri il gioco non quando vivi nell'illusione hai la villa la macchina il marito figli tutto stupendo ma hai capito un cazzo e sempre queste parolacce però elena non va bene cioè quando hai capito il meccanismo della realtà lì il difetto è che quando parli con le persone comuni ti sembra di parlare praticamente con tutti i concorsi efficienti ma non ha capito niente nessun altro qui niente di niente poi parli con un prete dici sì vabbè ciao poi parli con il filosofo felice ok ok dio quindi da noi perché non incontri nessuno che riesce però luisa già ha vinto se assolutamente abbiamo le tutte le entità diamo a ognuna mentali e te riche e ne amo ognuna una busta con scritto dentro luisa vinto virgola sei fottuto perché questa è la situazione questo anche indipendentemente poi da come andranno le cose e le cose andranno anche come etericamente vorrà che vadano luisa per fare quell'esperienza che le interessa va bene causa esoterica dei debiti con cui lei ne ho sposa si ritrova dopo che questa scelta della ps questa scelta della ps di fare questo percorso è molto strana allora gli artefici sono i due uomini del tempo legati ai due soldati militari ok che sono legati alle due principali situazioni pesanti che però diciamo sono stati assoldati proprio da da zeus da leonide che dirige ok questa cosa però è come se fosse la produzione dell'energia sempre più invalidante distruttiva legata a questa vecchia questo vecchio legame con l'energia di thanatos ok quindi è come se la ps di luisa non non avesse potuto far altro che scegliere una situazione che potesse essere accettata tra virgolette dal dall interferenza di thanatos no quindi come cioè nelle ultime tra vite direi tutte le scelte della ps tutte le esperienze della ps sono state influenzate dall'interferenza di thanatos ok andiamo all'origine di questo rapporto con thanatos quindi anche le cause in corso sì tutto tutte le interferenze che lei ha e ha avuto anche nelle tre vite precedenti sono tutte subordinate al progetto di thanatos andiamo all'origine c'è quella suona lì no no ma l'origine sua perché se lei aveva le interferenze con gli stanno da guardare la esatto stavo guardando se in quella vita lei aveva c'è stata nel senso vedo che lei era qui in quella vita una bambina quando c'era questa suona è stata cresciuta da questa suona probabilmente era la mamma e non poteva esserlo c'è ufficialmente ok ma in eterico quando lei ha dato l'autorizzazione in quella vita lì allora si è accettato accettato l'interferenza allora la sua ps ha accettato l'interferenza che allora questa sua ora ok la sua ora seduta fare su ora perché era rimasta incinta di lei e non poteva tra virgolette no perché non era accettabile è stata messa in convento diventata suora rabbia con la rabbia è stata presa dall'interferenza di tanatos e la bambina che è nata da lei con questa rabbia questa interferenza c'è da ps ha accettato l'interferenza della mamma e nei contratti nel cluster di luise questo sempre da lui luise adesso vede a volo d'angelo no a volo d'uccello che più bello vede tutte le sue vise da lei tutte le sue vite di tutte le sue dei suoi tempi la relatività di tutte queste storie e quindi si rende conto di quanto inutile e stupida è tutta questa storia di una che secondo un sistema di credenze non deve far avere figli che quindi bla 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 avete capito quindi sono stronzate queste queste sono stronzate stavo notando proprio la come sono riusciti a camuffare tutto questo nascondendosi dietro gesù che in teoria è buono ma anche gesù una stronzata se sì certo però ho detto ma sono tutti stronzate alla fine sono tutte stronzate queste tutte stronzate tutte favole tutti film solo film perché il cinema così importante quando è di qualità perché rappresenta una rappresentazione coerente di quello che stiamo vivendo sono storie a sé tutto lì la storia di vero non c'è niente e dare importanza a queste storie significa poi prendersi dei contratti e dell'interferenza esatto c'è un gesù in tutta questa storia ce n'è uno solo nella vita di luisa facciamoglielo cercare vada a cercarselo il suo gesù e lei lei l'ha detto io sì sì lei ha fatto così poi ha detto ma no ma cosa guardo fuori è fatto solo io ok ne ha fatto facciamo all'entrare dentro la sfera di gesù la sfera di gesù è una sfera cava e lei dentro la sfera entra e non c'è più un'apertura è uno specchio sferico concavo interno lei è rispecchiata ovunque non so se sia possibile probabilmente no ci vorrebbero delle facce ma noi lo facciamo completamente sferico poi lei si è solleva e si solleva fino al centro della sfera bene la sfera scoppia e lei adesso agisce quello che le serviva per capire non serve più adesso lei ha capito ha capito se ha capito e adesso sta sperimentando contro mentre io lo facciamo fare lo sta anche sperimentando che lei e dio bene ora che è più forte a quanto vengono più consapevole ma quanto vibra 87 miliardi con 87 miliardi in saccoccia vediamo gli impianti c'è un impianto mentale che è fatto da cinque cerchi periferici è un cerchio più grande centrale e cinque cerchi periferici si uniscono a quello centrale ok proprio in mezzo alla testa e a seconda del tipo di situazione in cui si trova luisa si accende un cerchio o piuttosto l'altro accendono tre o sei dipende 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 dalla situazione da quello che loro vogliono ottenere da quella situazione e quindi si accende una parte si collega un entità mentale usano per tutte e due poi poi c'è qua una specie di placca che non so se può essere che sia vedo come se ci fosse una cicatrice ma probabilmente eterica ok e poi ok basta quello lì a qui c'è un invece c'è un impianto sulla verte all'interno della vertebra più o meno metà toraciche quasi a direi sull'ottava vertebra toracica però all'interno verso verso l'addome una sfera a cosa serve a questo qua a mandare del degli impulsi energetici di vibrazioni basse fino a scena quello di abbassare le vibrazioni emozionali di indurre più tristezza a delusione mi viene a un po di rabbia pessimismo ok basta gli impianti c ce n'era uno che secondo me c'è ancora ma non funziona più stato tipo inglobato a livello della caviglia destra e partiva dall'esterno e si ma che a tipo dei raggi che andava verso l'interno verso qua ma non funziona più come se fosse stato anglobato e neutralizzato bene causa sotica del sentirsi vecchia da sempre fa parte delle varie emozioni negative che abbassano le vibrazioni tutto ciò andare sempre di più verso la morte più velocemente causa esoterica della vittuità sessuale molto scarsa sia adesso che prima sposata insomma sempre pochi uomini e qui ci centrano gli uomini del tempo c'entra gli uomini del tempo e comunque sempre con l'energia di tanatos sempre abbassare trasformare le sue emozioni da positive a negative quindi abbassamento anche della libido abbassamento delle occasioni c'è proprio tutto il negativo causa sotica del fatto che quando si appresta a fare un massaggio il suo nuovo lavoro si rivolge a gesù dammi la forza e questo è il modo in cui sono riusciti a tenere incastrata lui lui luisa in questa vita a questa energia di tanatos no con l'idea di gesù quindi gesù benevolo e quello che aiuta è quello qui l'è incastrata quindi tutte le volte che lei lo chiamo lo chiamava si collegava direttamente con l'energia di tanatos quindi mentre faceva massaggio sia l'energia del paziente cliente che la sua andavano proprio come se fosse un canale diretto a tanatos quindi se vogliamo l'è interferito tutti i suoi clienti se finora si definitivamente regalati a tanatos o quella seduta la sua l'energia di grazia nato no con la seduta con la seduta principalmente fare un esempio qualunque un cliente qualunque a quanto vibrava prima del massaggio a quanto vibrava dopo ma vedo questo signore prima del massaggio di brava a 37 miliardi dopo il massaggio 15 siccome questa cosa che noi siamo dio non piace praticamente a nessuno è molto difficile più facile darsi a qualcuno eccetera e siccome nessuno guarda se stesso ma tutti guardano agli altri beh ricordatevi che se fate una cosa del genere andate a rovinare la vita degli altri non lo dico adesso a luisa no sa che di recente c'è stata una signora e non gliene fotte un cazzo e lei vuole continuare a fare quello che fa e chi se ne frega bene continuerà a generare interferenze per se stessa e anche per gli altri perché quando uno ne genera per se stessa mi frega niente a nessuno al soggetto interessato soprattutto a ma quando si toccano gli altri a poi se ci sono i bambini a se ci sono i bambini a ci sono i bambini allora si mi sveglio ci sono i bambini mi sveglio se non ci sia bambini sui adulti oggi sono io stesso il sonno eterno mistero mistero non si sa perché i cuccioli dell'uomo svegliano subito se non ci sono i cuccioli dell'uomo siamo tutti asini tutte pecore che si buttano dal burrone appena c'è un bambino allora ci si sveglia strana sta cosa adesso non è che vuoi passare per l'orco ma è strana è curiosa prima le donne i bambini poi mentre quella in un'altra fregatura nel senso che mi viene in mente un po paragone con i cuccioli di animali no che sono tutti i più ciotti più teneri e quindi è come se comprassero ecco la compassione degli altri ecco immagina un adulto un bambino che si fa una vita di merda da bambino poi finalmente diventa adulto è no bisogna salvare bambini te poi anche morire che vita si fanno con la vita da merda ma un bambino ad e la sfortuna avere dei genitori velocini vacca ma dalla mattina alla sera quindi diciamo che il bambino è perso quindi perché il bambino alla precedenza su un adulto pulito una fattina che ha un bisogno di riscatto gigantesco ragionamenti del cacchio lo so miei personali poi bene ps consiglio lavoro dice questa parola qua e mi fa vedere un'immagine auto energy energizzazione ok quindi proprio come se dovesse reinsegnare alle sue cellule o riportare la memoria alle sue cellule dell'auto rigenerazione di energia quindi dell'aumento delle vibrazioni no lo fa di solito dice in generale di alzare le vibrazioni nel caso di luisa va proprio a dire che si deve concentrare proprio mandare il messaggio ogni singola cellula del suo corpo ok quindi iniziare proprio da un lavoro dall'interno quindi imparare proprio a visualizzare il suo interno il suo corpo ok e mandare l'informazione a tutte le cellule dall'interno e poi man mano anche all'esterno per imparare a per imparare ad alzare le vibrazioni le sue vibrazioni ok per poi arrivare a diciamo all'inizio dice crearti un guscio che solo simbolicamente è un guscio ok che poi pian piano però è proprio il imparare a essere centrata lo riconoscerai come centrature quindi saprai riconoscere quando le tue vibrazioni si stanno abbassando e quindi tirarle su oppure quando sono a un livello adeguato a quella situazione ecco può imparare a fare questa cosa lei mentre quando fai massaggi da loro se sono massaggi c'è l'importante che lei faccia massaggi concreti ok quindi non non utilizzo delle energie perché lì sappiamo che l'altra persona si sa mai a che livello è e quindi come abbiamo appena detto quindi mani sì quindi proprio le mani ok tatto contatto ma che aspetta che c'è deco e a quando lei fa massaggio ok proprio imparare a dividere i campi non so come dire c'è la sua vibrazione ad essere adeguata adeguata a lei e la vibrazione del cliente del paziente deve essere adeguata al paziente cliente quindi lei deve imparare a non interferire con la sua vibrazione quindi un utilizzo delle mani diciamo già fa questo e se le impara a sentire la sua vibrazione poi utilizzare le mani a fine se stesse ok proprio del massaggio concreto in sé riesce a non interferire con l'altro e non essere interferita dall'altro una cosa un po complessa ma se l'è poi se la riascolterà troverà profondamente andiamo al cluster e poi continuiamo il lavoro ci sono degli impiedi contratti lei non ne ha più bisogno non interessa più a nessuno capire il perché per come li ha firmati e li ha accettati oggi è il soggiorno x quello a cui arrivano in pochi nella sua famiglia arrivata solo lei al traguardo a per portare definitiva nella sua regione nelle sue condizioni ci saranno svariate donne solo lei è arrivata a questo traguardo vediamola anche con solo così è un bel traguardo assolutamente no visto che le cose della vita la portano a fare la considerazione sono una nullità non valgo nulla diciamo se diciamo che tutto diamo le cose come stanno lei è arrivata al traguardo assolutamente no lei si c'è in una maratona di mille persone l'è arrivata prima e forse anche di più di mille persone l'è arrivata prima lei è la prima di mille diecimila cinquantamila non è poco secondo me anche un cinquantamila considerando i nostri clienti e i 60 milioni di italiani da lì facciamo 30 milioni gli altri sono bambini anziani salvati bambini 30 milioni capisci che che ha preso tutti i contratti le ha buttati nel portale definitivo chiuso e questa è la parte più importante non è gesù dammi la forza gesù vuoi sentire la tua voce gesù ma è una d'eternum una auto creazione infinita di energia a spese di nessuno né di lei e dell'universo né di alcunché o alcun alcun qualcuno e lei che crea energia infinita la mette ad eternum per sempre lì dove le pare e nessuno può spostare perché è formata da il suo intento e lei se lo mette 12 10 20 50 mila d'eternum nel suo cluster come dire questo posto è mio e nessuno ci fa più nulla ipotesi di una vita futura in cui mi reincarno qua non entra nessun contratto che forma colore una fontana proprio una fontana che manda energia in tutto il cluster ok si espande e poi si ricarica ancora di più ma ecco fa questa cosa qua però esce all'inizio c'è da fontana e poi si rigenera come un toroide dopo ok avatar sì non importa vedere come lo vedi sapere come lo vedi via e ad eterno in cui sì sì ok zeus tanatos sfinge uomini del tempo e dl tristezza frenesia e tutto quello che non abbiamo visto visto impianti cloni e progetto sono ancora presenti a tutti ok il progetto non c'è più macchina energetica no no ok la ps ancora graticola adesso è dice spiace dice spiace sferum e la pia solarium bene nuova vibrazione 189 miliardi 189 8 9 1 9 8 1 sta a luisa dice 5 5 e 5 e 7 può anche mettere già che ci siamo una di eterno in tutti i suoi processi in tutti i tribunali nella tasca di tutti i giudici e di tutti gli avvocati questa cosa l'abbiamo visto tra l'altro con un'altra risconoscente elena proprio se ne di tribunali cose che andavano sempre male lui l'ha fatto questo uomo ha fatto e non sono cose sono andate bene se il giudice addormentato si è svegliato per me ho scoperto che era sotto fatture varie che sono state spazzate via funzionano solo funzionano ma dovete farle anche voi e se santemente credendoci creando le consapevolezza 178 psp e 63 37 invertite perfettamente vite precedenti 1546 cervello 9.4 prima del messaggio finale abbiamo dimenticato il portale auro aperto diciamo vediamo quanti disincarnati sono venuti 137 messaggio di fratello sorella e padre già vicati cioè convicca offerto che solitamente prendono ora sia la sorella che fratello dicono le dicono abbiamo scelto la morte meno crudele tra quelle che erano possibili per noi e quindi per quello abbiamo scelto quel momento lì e quella cosa lì e padre il padre invece vuole trasmettere a luisa che a livello energetico visto da qua loro quando erano tutti assieme erano una grande famiglia a livello energetico l'energia era molto equilibrata attualmente anche per questo hanno cercato di dividerli di fratello sulla natura assieme questa cosa che sento primo insieme li lasciamo andare allora e chiudiamo il portale auro un'occhiata veloce al cinema qualche con veloce qualche considerazione da fare vabbè quel suo ex semplicemente dice non ci arriverò mai e davanti i figli e le amiche sono molto entusiaste quasi le amiche sono lì che prendono appunto hanno preso appunti anche per loro i figli sono molto entusiasti che è la migliore quella a cui presente però lei sa già delle cose come se avesse integrato i suoi appunti come se avesse già degli appunti e ha aggiunto delle note l'altra mi sembra un po più novella ecco rispetto a queste cose quindi è come se avesse scritto tutto ex messaggio finale di luisa lei che quando vuole può entrare nella sua sfera dio nella sua sfera gesù è quella la prima il primo passo che deve deve ricordarsi cioè ricordare nuovamente alle sue cellule di fare ecco quindi entrare dentro di sé ok aspetta di poter ripetere che proprio qua è saltato allora rientrare dentro entrare tutte le volte dentro di sé ok riguardarsi appunto a queste guardarsi riflessa su questa sfera a specchio ok dire io sono dio io posso creare tutto e ripeterlo ogni singola cellula del suo corpo all'inizio proprio questa cosa che lei deve fare da dentro proprio questa cosa messaggio finale anche solo una parola una battuta un simbolo tu sei l'acqua del fiume ma metterico vedo lei sopra un fiume che guarda verso direzione della sorgente del fiume non la foce e mentre scorre l'acqua le sue le vibrazioni dell'acqua sono le sue stesse ecco va bene abbiamo finito